Arrestato per violenza e sequestro di persona. In manette è finito un 29enne di origini siciliane, residente in Brianza. Botte e pugni alla compagna, rinchiusa in casa e picchiata per oltre mezz'ora, fino a quando non sono arrivati i carabinieri a salvarla. La violenza cieca durante un pranzo con amici che si è trasformato in un incubo. Li aveva invitati a casa per mangiare una pizza insieme, ma improvvisamente, complice a qualche bicchiere di troppo e forse l'uso di sostanze stupefacenti, li ha cacciati via, accanendosi sulla fidanzata di 26 anni. È accaduto mercoledì pomeriggio. A carate Brianza, il giovane, in preda a unire improvvisa, ha cacciato i commensali che lui stesso aveva invitato, urlando, minacciandoli, lanciando piatti. La compagna ha cercato di calmarla, ma lui l'ha chiusa a chiave in casa, prendendo la calcio e pugni. A liberarla sono stati i carabinieri di Seregno. Il 29enne, armato di taglierino, ha minacciato anche loro prima di finire in manette. La relazione tra i due era iniziata un anno fa, costellata da episodi di violenza e perdono. Ritenevo, ha raccontato la giovane ai militari, che avessi bisogno del mio aiuto per stare bene e quindi non l'ho mai denunciato. Negli ultimi tempi, però, gli eccessi di rabbia erano diventati più frequenti e la giovane donna aveva iniziato a temere seriamente per la sua incolumità, fino al sequestro e alle botte che hanno portato il 29enne in cella.